Dopo gli eventi di oggi vorrei esprimere la mia gratitudine alla Scuola dello Sport che ha organizzato un evento di tale misura in quanto molto efficace, molto utile per tutte le donne che vorrebbero imparare ed affrontare una carriera in leadership, dirigenziale, all'interno del mondo e soprattutto all'interno del mondo dello sport. Credo che queste iniziative servano, servano ancora di più e vedo che già in questi anni stiamo andando sempre più verso una percentuale in più di donne che ricoprono posizioni dirigenziali. Un grande saluto alla Scuola dello Sport e grazie per questa iniziativa!